acquista titoli digitali a prezzi scontati su instant gaming utilizzando il link in descrizione e buona visione buongiorno a tutti ragazzi oggi è un gran lunedì oggi è un gran lunedì perché è il primo febbraio e come ormai insomma sapranno anche i muri di coloro che seguono il canale abbiamo la serie 8 da oggi è ufficiale è implementata e quindi da oggi uber veramente dappertutto solgaleo lugia zashan raiquaza chioghe graudon fanno parte del regolamento ufficiale e come potete vedere da grafica oggi infatti ci diamo dentro con degli appuntamenti veramente interessanti oltre questo tech che io spero possa interessarvi come avete già capito su solgaleo infatti oggi alle ore 14 in modalità premier vi esco il primo video di series 8 di gameplay di competitivo proprio qua su youtube e ce lo godremo in modalità premier dopodiché alle ore 18 beh siamo di scena come di consueto sul canale twitch per giocarci invece lo zasina lapras volcarona malamar di mia creazione vedere un po se sarà proprio quello il team che potrà portarci la prima posizione le prossime settimane ma l'appuntamento succulento e interessante di stasera beh è sicuramente in compagnia di raiquaza ore 21 e 30 sul canale di gamestop sempre su twitch gamestop it libereremo la bestia dalla torre dei cieli quindi io vi voglio assolutamente tutti numerosi anche per dare un segnale al mondo dell'e sport italiano che pokemon c'è e è forte e poi insomma cazzo c'è raiquaza cos'altro devo dirvi ah sì un'altra cosa ve la devo dire molto mastrotiana ma insomma come detto una giornata speciale me lo perdonerete è sempre valida su pampling la promozione delle due felpe a 30 euro che poi diventano 24 con il codice sconto pardini ne state soffriendo in tanti grandissimi bravissimi e roba buona me lo state certificando tutti e non costa niente quindi dateci dentro passa montagna e via ma adesso sol galeo sol galeo ragazzi sarà sicuramente meta e lo stiamo già capendo da questo irli meta di series 8 perché giustamente qualcuno di voi potrebbe obiettare ma pardo entra in vigore oggi com'è possibile che si parli già di irli meta molto semplice è abitudine del mondo competitivo ogni ugual volta arriva un regolamento implementarlo o su showdown o cominciare a farvi tornei for fun e è proprio il caso di tornei for fun ma neanche troppo for fun di un bel livello competitivo che proprio questo fine settimana c'è stato un torneo la jokes 9 seconda edizione torneo di joseph ugarte dove sol galeo è arrivato in fondo veramente a tanti 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 giocatori peraltro grande complimenti al nostro giovanni piscitelli collega della lega toscana che se lo è portato a casa questo mega torneo giocando un tornogre ma poi avremo modo anche di approfondire in un altro video quali sono stati i team che hanno fatto top a questo torneo perché sarà importante analizzarlo perché adesso è fondamentale mettere a fuoco questo metagame ma parliamo finalmente di sol galeo ragazzi lo possiamo definire il metagross 2.0 direi di sì è il metagross 2.0 perché ha full metal body che è un nome figo per dire che ha clear body corpo chiaro cioè non gli si può abbassare le statistiche benissimo detto questo chiaramente è uno stillone psico esattamente come metagross ma chiaramente le statistiche in alcune sue peculiarità sono addirittura superiori a partire dalla velocità che lo rendono veramente molto molto temibile ma non è soltanto questa differenza con metagross ovviamente più ps stati sia da leggendari ragazzi ma ha anche la possibilità di poter apprendere determinate tipologie di mosse che il buon metagross non apprendeva tipo flare blitz ora probabilmente non lo useremo però in caso in caso gli still dovessero e probabilmente sarà così diventare veramente un reframe continuo di questo metagame lui ha anche questa opzione oltre alla max quake che il buon metagross non ha rifacendo un nuovo recap sulle statistiche 137 in ps in attacco sono veramente valide 107 in difesa 116 in attacco che non useremo 89 in difesa speciale ha il suo punto debole 97 meno male non ha 100 sarebbe stato complicato è giusto che stia sotto a determinati uber che hanno 100 di speed però sta soprattutto tutti quelli 90 e 95 lui ragazzi è il nuovo metagross e allora come lo dovremo giocare esatto weakness policy sun still che diventa una bella still spike che gli va a aumentare la difesa airquake quindi possibilità di andarsi ad aumentare la difesa speciale per sopperire al suo difettuccio che è l'unica statistica normale da pokemon non leggendario di questo sul galeo cioè 89 la difesa speciale abbiamo detto poi ci sta molto bene wild charge per fare una bella max lightning sui lapras su altre robe se no come detto potete andare a scegliere fra un'ampia un'ampia scelta di mosse ci sta molto bene la rock slide a mio giudizio per fare una rock fall secondo me potrebbe girare qualche oh potrebbe assolutamente potrebbe girare qualche graudon potrebbe assolutamente ora noi su grado non è che facciamo la rock fall su graudon in senso stretto la possiamo fare sul compagno togliere il sole e andare quindi a rendere anche un pochino più inutile venosaur facendogli perdere quel ripositioning per dover rimettere il sole essere nuovamente un pokemon giocabile quindi rock fall qua ci sta occhio anche a psachifunks ragazzi apriamo una parentesi su psachifunks non tanto per sparare una mindstorm che comunque è una mossa stub vabbè ma sta diventando veramente prepotente come usage zassian lapras c'è tutta una serie di team usciti da fevzi anche quello che abbiamo fatto noi nelle scorse settimane il primo team che abbiamo fatto abbiamo tirato fuori zassian lapras insomma ci sono tanti tanti schermi in questo meta tanti lapras tanti aurora veil e anche tanti grimsner ecco perché psichic funks che ha lo stesso effetto di breccia potrebbe essere utile potrebbe assolutamente essere utile e inoltre potrebbe garantire una mindstorm why not per cambiare un campo insomma teniamola un pizzichino sotto anche la lente di osservazione anche questa anche questa mossa psico poi volendo c'è super power se vogliamo sparare una knuckle e potenziarci un pokemon che è immune a le intimidate quindi è un investimento sicuro money in the bank come si direbbe a pallacanestro andiamo a prendere un più uno che nessuno mai potrà toglierci whizingalar ed aids chiaramente permettendo altre mosse beh volendo sì bulldoze per essere un po più supporter per altri che hanno la weakness rock tomb le mosse sostanzialmente io cari ragazzi ve le ho elencate sono queste cinque barra sei sunsteel e quake due must poi sulla terza molto quotata rockfall wild charge flare blitz e psychic fun e non mi muoverei da queste con l'aggiunta abbiamo detto del super power o del close combat io sono più del partito super power nella quarta slot amici qui io ci darei una protect perché voi dovete difendere e capitalizzare la presa di posizione dovete difendere con una max guard o con una protect finita la dynamax il più uno in difesa e più una difesa speciale il più due in attacco che avete preso magari self triggerato da un bulldoze la caratteristica di questi pokemon e l'abbiamo anche detto analizzato nel tech di dusk main che ha una funzionalità simile ma non uguale perché non ha clear body può essere intimidito lui li può perdere anche con dei banali entresci di insieme che sarà assolutamente strameta è già il poco probabilmente più utilizzato di questa series 8 la caratteristica stiamo dicendo è dover diventare uber fuori dalla dynamax grazie potenzialmente quindi più uno difesa più due in difesa più una difesa speciale più due in attacco questo deve puntare a diventare un carro armato e poi se chiaramente voi non avete protect diventate un po un bersaglio facile nei tornei a liste aperte a liste chiuse quelle che volete protect secondo me qua ci sta tutta la vita parliamo un attimo adesso delle distribuzione di ev lo sapete non sono un amante del darvi dei pacchetti pre compilati di ev spread perché chiaramente ogni team esige le proprie ev spread qui sempre e comunque in linea generale è un po come che dobbiamo dare maxare no molto probabilmente cioè non è un chiogre che magari possiamo giocare anche non dynamax perché fa zampillo questo deve dare maxare questo è 90 come metagross quando lo si porta perché lo bisogna dare maxare quindi qui un pizzico di investimento che possa essere 100 176 156 180 quello che volete 176 189 ragazzi perché sennò vi mangiate 180 vi mangiate veramente quattro punticini insomma comunque un pizzico di investimento in dps io glielo darei anche perché 137 già di hp sono tantini quindi se voi riuscite ad maxare una roba che arriva faccio per dire a 460 dps diventa particolarmente bello bulky dipende poi dal team per quanto riguarda la velocità avete dei tailwind oltre a bulldoze che avrete sicuramente o con spectre o con entei o con chi volete per andarvelo a catalizzare avete degli ice wind beh allora qui il livello di velocità dipende se non ce li avete forse addirittura dovete andare a fare uno max speed però sarebbe un po buttare l'effort value su un pokemon che detto deve prendere boost in difesa in difesa speciale ecco perché comunque un aiutino in difesa speciale per aumentarci la difesa speciale ulteriormente con i più uno più due quanti max quei che fate potrebbe essere utile idem con la difesa però non dimenticate l'attacco ecco io qui comunque sarei sempre comunque per una tour decisa adamant per questo po non per sfruttare il 137 più più che il 97 più e sfruttare anche il più due di weakness policy che voi vi andate a prendere quindi qua dovete vedere assolutamente voi in base al vostro team vi do un aiuto la stella polare da seguire la statistica che dovete attenzionare per prima è la velocità quindi in base a quanto date di velocità in base a quanta speed control fate o avete o pensate sia necessario per questo pokemon nel vostro team date una velocità esempio vi basta 126 per questo questo perché ha più uno sub dopo bulldoze supera questo se no altrimenti mi sdruma bene benissimo dopodiché operate sui ps per qualche danno difensivo e poi cominciate e chiaramente le difese ps e difesa no alle volte 76 hp 12 difesa reggo wicked blow dcb ecco ok dopodiché date chiaramente l'attacco quindi velocità poi calcolo difensivo e poi attacco questo è il consiglio che mi sento di darvi signori miei io per quanto riguarda sol galeo non mi vorrei dilungare oltre non ci sono secondo me altri set la life cioè per carità ci possono anche essere ma il meglio del meglio è il weakness policy sol galeo del set ne abbiamo parlato delle statistiche ne abbiamo parlato se avete ancora fame di tech io vi consiglio di andarvi a rivedere tutti quelli che abbiamo fatto uscire nella settimana precedente ne sono usciti ben 11 ragazzi 11 tech in sette giorni settimana scorsa da raikwaza a zasian a hoho a dusk main a sol galeo a chiogre ne sono usciti veramente una valanga ma vi ricordo oggi triplice appuntamento con tre team diversi si parte alle 14 su questo canale modalità premier non perdetevelo con un free battle spot dedicato a lugia non sottovalutatelo e poi ore 18 in battle spot per cercare di avvicinarsi subito alla prima posizione magari non farla subito perché sarebbe tristo e noioso ma avvicinarsi indubbiamente la posizione con zasian lapras con il nostro team e poi alle ore 21 e 30 ospiti di gamestop ve lo riri ripeto gamestop it per giocare raikwaza ciao a tutti ragazzi passate una buona giornata rigorosamente competitiva a e lasciate mi piace iscrivetevi al canale io non ve l'ho detto sulla fiducia ciao 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 ciao